Buongiorno a tutti i tifosi viola da Lorenzo Mancini, benvenuti nel terzo episodio della Nostalgic Road to Glory serie che ripercorre la stagione della Fiorentina del 2014-2015 e come avete letto dal titolo oggi vedremo le prime tre partite del girone di Europa League di quella stagione della Fiorentina un girone che nella prima parte come vedrete oggi nel video è andato a gonfie e vele appunto vedremo i tabellini, vedremo chi ha giocato, le formazioni, anche qualche così, qualche dettaglio e un aneddoto in più, vissuto anche da me in prima persona perché feci l'abbonamento appunto all'Europa League, ai gironi d'Europa League quell'anno ma poi me la godetti tutta a quel punto la cavalcata della Fiorentina che tra l'altro racconterò anche su questo canale e quindi niente ragazzi direi di partire col video e appunto partiamo con la prima partita del girone è proprio nella gara inaugurale del gruppo K dell'Europa League che la Fiorentina appunto trova la prima vittoria stagionale battendo per ben 3-0 il Gang Amp che come avevo detto nel video precedente, aveva vinto la Coppa Nazionale l'anno prima, un colpo di testa appunto di Vargas sul cross di Kurtic sblocca il risultato al 34esimo, il Gang Amp poi ridotto il Gang Amp scusatemi ridotto in 38 dal primo tempo per l'espulsione di Diallo soffre, nella ripresa poi Quadrado servito bene da Pizarro e Bernardeschi mettono appunto a sicuro il risultato una partita veramente bella dal punto di vista dello spettacolo allo stadio con la Fiorentina che ha anche un po' rischiato di pareggiarla momentaneamente 1-1 ma che poi appunto con Quadrado e l'Azzurrino come era a quell'ora Bernardeschi riescono a vincerla per ben 3-0, risultato tondo tondo ed è proprio contro i bielorussi della Dinamo Minsk alla Borisov Arena con un risultato tondo di 3-0 che l'imbattibilità in trasferta della Fiorentina in Europa sale addirittura pensate un po', a 6 partite. Aquirani porta in vantaggio Iviola dopo 33 minuti, infatti il giocatore approfitta di un'uscita vuoto del portiere Ignatovic sul cross di Manel Pasquale scarica un potente destro sotto la traversa, dopo un'altra chance di Josip Ilicic poi i giocatori diciamo che vanno in sofferenza sul fine del primo tempo, infatti i bielorussi rischiano e più che altro Schupano due ottime chance per il pareggio ma poi nel secondo tempo le reti di Ilicic e un'altra volta Bernardeschi mettono in ghiaccio la vittoria consolidando appunto anche la prima posizione nel girone K della Fiorentina. Per i tifosi del Pauk questa sembra una finale di Champions League ragazzi, pure dalla televisione, pure per chi era a casa come noi tifosi Fiorentina sul divano a goderci questa trasferta europea infrasettimanale si respirava veramente la bolgia che i tifosi, gli ultras del Pauk di Salonico stavano scatenando allo stadio Tumba. Una partita che magari a livello sia il punto di score come vedete ma anche in campo non ha regalato emozioni trascendentali che uno si ricorderà per tutta la vita ma è una partita che per due motivi ha sancito più o meno anche la storia del cammino della Fiorentina nell'Europa League di quell'anno. Primo motivo perché appunto dopo addirittura pensate 11 partite internazionali tra quella che prima era la Coppa UEFA e quella che adesso è l'Europa League, il Pauk viene sconfitto in casa allo stadio Tumba e anche ragazzi appunto il secondo motivo è perché la Fiorentina ha messo praticamente un piede nella fase eliminazione diretta della stessa edizione dell'Europa League. Vargas è il marcatore come avete visto della partita dopo una bella discesa alla prima conclusione viene respinta dal portiere del Pauk ma la palla ritorna come una calamita sui piedi del Perugiano che al secondo tentativo non sbaglia e con il suo magico sinistro segna il gol dell'1-0 che poi sarà il risultato finale nel secondo tempo per farvi anche un po' capire qual era la situazione della Fiorentina. Montella decide di richiamare Bernardeschi che comunque è un giocatore ragazzi che pensate quello che volete è un giocatore estremamente qualitativo e lo richiama in panchina per inserire Quadrado per dar più corsa anche alla squadra e poi toglie Borca Valero per congelare a quel punto la partita con un esperto Andrea Lazzari. Prima di concludere il video ragazzi mi sembrava doveroso ricordare anche le altre italiane che hanno partecipato all'edizione di Europa League 2014-2015 tra queste il Torino nel girone B, l'Inter nell'Effe insieme al Dnipro che sarà la finalista di quell'edizione di Europa League a discapito del Napoli che si trovava nel girone I e la Fiorentina come sappiamo benissimo nel K. Detto questo ragazzi grazie per essere stati con me fino adesso termina qua il terzo episodio del nostalgic rotto glory sulla Fiorentina vi invito a mettere mi piace a iscrivervi al canale a commentare il video a condividerlo e a condividere anche il canale con i vostri amici Viola perché siamo arrivati a 24 iscritti e più cresciamo per me ovviamente e meglio è mi date anche più forza diciamo anche per continuare il mio Instagram è loremanciox2 ve lo dico perché oltre ai video che dovrebbero uscire in settimana sul mio canale qui su YouTube dovrei fare una live su Instagram con MB Viola e altri ragazzi di un gruppo Telegram dove parleremo ovviamente del mondo Fiorentina e tutto ciò che concerne la Viola. Detto questo ragazzi grazie per essere stati con me fino adesso sempre sempre Forza Viola!